Grazie Presidente. Oggi ci troviamo a discutere la conversione in legge di un decreto di fondamentale importanza, ma ci troviamo anche di fronte purtroppo all'ennesima decretazione di urgenza che comprime le prerogative di quest'Aula e la funzione di noi parlamentari. Lo strumento principale affinché l'Italia si adegui agli obblighi derivanti dall'Unione Europea esiste già ed è legge ordinaria, secondo quanto prevede la stessa legge 234 del 2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento la legge europea e la legge di delegazione europea. Pertanto, anche grazie all'innovazione apportata alla fine del 2021 con emendamenti del Movimento 5 Stelle, siamo riusciti a prevedere nel nostro sistema normativo nazionale due leggi europee l'anno e due leggi di delegazione europea, strumenti di fondamentale importanza per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione Europea. Ma pur sempre, preservando il dibattito parlamentare, il costante coinvolgimento del Parlamento. Siamo infatti fermamente convinti che l'applicazione efficace del diritto dell'Unione Europea non possa prescindere dal fondamentale concorso tra gli altri soggetti, anche del Parlamento, che svolge un ruolo cruciale nella fase di formazione ed attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione, oltre che in relazione al cosiddetto dialogo politico con la stessa Commissione europea. Ora, purtroppo, ci troviamo a dover affrontare delle problematiche delicate e complesse, quali quelle legate alle procedure di infrazione, comprimendo per l'ennesima volta le prerogative parlamentari, con un decreto legge che non ha requisiti dell'urgenza a causa dei ritardi del Governo nel presentare i disegni di legge europea e di delegazione europea, la cui tempestiva presentazione avrebbe consentito un esame più approfondito, come peraltro previsto dalla legge 234 del 2012. Al Senato, grazie alla discussione parlamentare, sono stati dati importanti contributi migliorativi al provvedimento in fase di esame, grazie anche ai nostri emendamenti approvati. Ricordo quello che introduce l'articolo 8bis, che prevede, al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, l'istituzione di un fondo con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro per il biennio 2023-2024, volto a finanziare investimenti da parte delle Regioni per la realizzazione di misure di ripristino attivo e l'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni. Grazie all'approvazione di questo emendamento, si fa un passo in avanti importante verso la conservazione della biodiversità a garanzia della protezione della natura, tenendo anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. D'altra parte, la stragrande maggioranza delle procedure di infrazione avviate nei confronti del nostro Paese, ricordo che ad oggi sono 12, riguarda proprio il settore ambientale. La stessa attenzione che il Movimento 5 Stelle ha da sempre nei confronti dei temi della tutela ambientale non è di certo quella che viene perseguita con l'articolo 9 bis introdotto nel provvedimento dal Governo sul tema dell'ex ILVA, che non solo non risolve la procedura di infrazione, ma che presenta profili inconciliabili con il valore primario attribuito dalla nostra Costituzione alla tutela dell'ambiente e della sostenibilità ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi. Le nostre proposte emendative presentate sul tema dell'ex ILVA avevano un chiaro obiettivo, quello di introdurre garanzie precise in termini di sicurezza della salute, rispetto dell'ambiente e tutela dei lavoratori e delle imprese, dell'indotto, ma il Governo le ha respinte. Siamo riusciti però a ottenere una garanzia in più, grazie al nostro sub-emendamento approvato che prescrive la trasmissione alle Camere da parte del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di una relazione sull'attività di verifica effettuata dal Comitato di Esperti. Grazie all'approcazione di un altro emendamento del Movimento 5 Stelle sarà ora possibile locare senza conducente anche i trattori acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione di improprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata. Abbiamo inoltre ripresentato alla Camera gli emendamenti non approvati al Senato che, a causa però dell'annunciata ennesima posizione della fiducia, non avranno la possibilità di essere discussi ed eventualmente accolti. E emendamenti mirati a rafforzare soprattutto misure a tutela e garanzia della salute, dell'ambiente e dei lavoratori. Cito ad esempio l'emendamento che propone di incrementare il fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente per l'individuazione dei livelli di random critici con ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro e la proposta di ridurre a 90 giorni il termine per l'adozione dei decreti ministeriali necessari per l'effettivo funzionamento del fondo. O quello che nell'ambito del devieto di abbruciamento di sfalci e potature prevede la possibilità per le Regioni di incentivare la raccolta e la trasformazione di materiale vegetale naturale per fini energetici. O ancora l'emendamento che segna alla Sicilia e alle isole minori una quota a parte della dotazione organica e incrementata dei vigili del fuoco volontari dove non ci sono presidi e distaccamenti fissi. Credo, in conclusione, che quando si riesce a avere il tempo e il modo di collaborare, di ascoltarsi, sia decisamente più facile mettere in circolo idee e proposte che possano rendere migliore il nostro lavoro a servizio delle cittadine e dei cittadini. È più facile mettere da parte divisioni ideologiche e recuperare la cosa più importante del nostro essere qui, lo spirito di servizio. Ci vuole più coraggio da parte di tutte e tutti e più umiltà, accettando che una buona idea, una buona soluzione ad un problema è buona indipendentemente da chi l'ha proposta. In sintesi, ci vuole più fiducia nei parlamentari e meno fiducia sui provvedimenti. Termino il mio intervento con l'auspicio che in quest'Aula ci siano sempre più occasioni di lavoro collegiale in cui ogni parlamentare possa avere finalmente la possibilità di fare ciò per cui è stato eletto, dare il proprio contributo per rendere migliore la vita delle cittadine e dei cittadini. Grazie.